ma quando arrivano sono due ore che aspettiamo sono due ore che aspettiamo ragazze eccoli guarda è pieno di ragazze che ci aspettano mi raccomando ragazzi sorridete quando scendete dal pullman capito sta zitto buffone ma che ti crede di essere ma che vuoi tu calma calma ragazzi mettetevi in fila per gli autografi e tu chi sei il grande abrusarpe io non ti conosco ecco holly sta scendendo lavati di mezzo tu non azzardatevi a toccare holly nemmeno con un dito si può sapere chi sei non te lo sei mica comprato holly ma queste sono tutte matte è stato più faticoso di una partita è bello avere tante ammiratrici ma che bello c'è mancato poco che ci rimettessi la pelle lo so lo so per fortuna c'erano patti e susi a difenderti diventano delle belle quando qualcuno prova ad avvicinarsi e io quella è l'artic la squadra con cui dobbiamo giocare domani c'è un liatto te la dovrai vedere con me domani quel ragazzo ha lo stesso sguardo di mark coraggio ci siamo tutti possiamo anche andare mark non si è visto non ci può abbandonare proprio adesso dovremo giocare senza il nostro capitano così mark seguita così mark sono quasi pronto ormai mi è tornata la gritta di un tempo sono sicuro che non perderò mai più aspetta mi ollie sto arrivando bravo mark questo è il mark che conoscevo io adesso si che ha ritrovato il suo spirito combattivo è ora di andare mark andare dove mister adesso sei pronto torna dalla tua squadra mark aspettaci mark ti dobbiamo parlare ti volevamo fare i nostri auguri abbiamo saputo che stai per partire mi raccomando fai una bella figura al campionato noi ti faremo tutti per te buona fortuna e non ti dimenticare di noi quando diventerai un campione famosa grazie di tutto amici tieni mark questo è il biglietto per il treno in bocca al lupo abbiamo fatto un buon lavoro insieme grazie gentili telespettatori buongiorno stiamo trasmettendo in telecronaca diretta la cerimonia di apertura del secondo turno delle eliminatorie dal quale usciranno le 16 squadre finaliste che parteciperanno agli ottavi di finale di questa edizione del campionato nazionale giovanile di calcio le 48 squadre che si sono classificate per questa seconda fase eliminatoria daranno vita ad una settimana di accesi incontri dai quali uscirà la squadra campione vediamo ora il capitano della new team molin rattle riconsegnare come diritto la bandiera la conquisteremo noi quest'anno ci puoi giurare non preoccuparti è come se fosse già nostra spero proprio che tu abbia ragione coraggio ragazzi quella bandiera dovrà essere nostra a tutti i costi siete tutti d'accordo? sì sembrano tutti molto agguerriti ma la new team anche quest'anno dimostrerà di essere la più forte ehi guardate là cosa? nella tow non c'è Mark hai ragione allora è proprio vero che è scomparso dove sei capitano? sono sicuro che Mark tornerà oh lì ti prego regalami quest'ultima vittoria anche se so che poi deciderai di andare in Brasile Patti Emi ma sei tu? ciao Patti come stai? ciao Julian ci sei anche tu che piacere rivedermi sono così emozionata Patti tutti lo siamo a proposito Julian mi dispiace molto che abbiate perso grazie Patti ma non preoccuparti l'importante è che io sia tornato a giocare tra pochi minuti potremo assistere alla prima partita del secondo turno dell'eliminatore scenderanno in campo la squadra campione uscente della new team e la Arctic che si è qualificata a sorpresa eliminando nella prima fase preliminare la più quotata Norfolk è la prima volta che affrontiamo l'Arctic speriamo che non ci creino molti problemi oh non cominciamo ad aver paura degli avversari l'importante è che restiamo uniti e che ce la mettiamo tutta Alan ha ragione se noi ci impegneremo a fondo non avremo più problemi ricordatevi che non possiamo permetterci di perdere neanche una partita certo altrimenti saremo subito eliminati ma non voglio neanche pensare ad una cosa del genere siamo noi campioni in carica e non sarà facile batterci ma certo andrà tutto bene basta con le chiacchiere forza ragazzi dimostriamo in campo quanto valiamo abbiamo un titolo da difendere Arctic stiamo arrivando buongiorno Freddy ciao Kirk ero sicuro che l'avrei trovata qua certo come tu sai fa parte del mio lavoro trovare ragazzi in gamba per la rappresentativa nazionale e qui li posso vedere tutti insieme è un'occasione unica spero di trovare tanti piccoli campioni per formare una squadra ad alto livello e sono sicuro di trovarli a costo di seguire tutte le partite di questo campionato già nella prima vedrò Atton all'opera che per me resta il giovane più promettente è proprio intorno a Olly che vorrei costruire una buona squadra per togliermi qualche soddisfazione vedrà che Olly la ripagherà della fiducia che ha in lui mi raccomando ragazzi non vi fate condizionare dal fatto che sono i campioni in carica la new team non ci mette paura come abbiamo deciso in questi ultimi giorni tu Ralf marcherai Atton devi riuscire ad annullarlo si fidi di me mister non vedo l'ora di trovarmelo di fronte e poterlo finalmente umiliare davanti a tanta gente sarà divertentissimo eliminarli subito vendete ragazzi non voglio che vi stanchiate prima della partita perciò tutti nelle vostre stanze a riposare è tornato Mark io lo sapevo è tornato Mark capitano finalmente Mark io ero sicuro che non ci avresti abbandonato ragazzi vi devo chiedere scusa per quello che ho fatto buongiorno mister la prego cerchi di capirmi anche lei ascolta Mark tu non fai più parte della nostra squadra mister ma cosa dice? Mark è tornato manca ormai poco all'inizio i tifosi sono impazienti di vedere i propri beniamini all'opera la new team vincerà la new team vincerà Artic! 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 coraggio tocca a noi ragazzi siete tutti pronti certo ed ecco finalmente le squadre fare il loro ingresso in campo ascolta Mark grazie a tutti ben